Buongiorno e benvenuti alla finalità di polaro mondiale, cominciamo le audizioni Buongiorno e benvenuti alla finalità di polaro mondiale, cominciamo le audizioni Buongiorno e benvenuti alla fine 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 grazie grazie oye loca ven pa'ca muévelo, muévelo sin parar let's go no n Sì, 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 Sì! Jessica Bassan e Mila Lazzarin Quanta energia che ci hanno portato Quanta energia E quante patatine